In questi giorni tiene banco la tanto paventata riapertura del punto nascita dell'ospedale di Sant'Agata Militello. Il dado sembra essere finalmente tratto con la regione che interverrà economicamente per finanziare i lavori di adeguamento. Una lotta iniziata nel 2019 con comitati civici e uomini politici che si sono dati da fare per ottenere un risultato importante. Tra questi il deputato all'Asse Giuseppe Laccoto che ha presentato diverse interrogazioni in merito. Io sono contento che la mia interrogazione è servita a far muovere perlomeno qualcosa anche i sindaci che finalmente hanno compreso che per difendere l'ospedale bisogna anche attivarsi. L'unica cosa che io penso è che bisognava farlo prima anche da parte di esponenti della maggioranza perché senza la messa in sicurezza del reparto sicuramente il Ministero non ha dato e non darà in nulla osta per l'adderoga per il punto nascita che è inferiore a 500 nascite all'anno. Ecco questo è il mio pensiero. Quindi quello che io suggerisco dalla mia poca esperienza è quello di attivarsi immediatamente per mettere in sicurezza il reparto. Dopodiché io penso che con l'ausilio di tutte le forze politiche non esclusive solamente quelle di maggioranza si riuscirà a ottenere il punto nascita.